Da dove è nata questa stupenda idea di poter avere qui a Crotone le reliquie di Santa Bernadette di Lourdes? Da un percorso che hanno già organizzato direttamente da Lourdes i responsabili delle reliquie. Noi abbiamo avuto già in passato la presenza di altre reliquie, sempre di Santa Bernadette. Oggi hanno pensato di farci il dono della presenza di queste, che è appunto una costola della Santa. È la Santa di Lourdes, con lei che ci ha ricordato e ci ricorda questo significato di amore, soprattutto per la sofferenza e per l'opera di coloro che in qualche modo stanno vicino ai sofferenti e agli ammalati. Per quello che io mi rilego, mi riconduco al pensiero del nostro stimatissimo e grandissimo Papa, a proposito dei tantissimi pellegrinaggi che devono essere pellegrinaggi di fede e non pellegrinaggi di divertimento o di svago, soprattutto all'Urd, per quello che si riferiva al nostro Papa. Certo, è il significato appunto di ciò che noi cerchiamo, della pace. La presenza appunto del pellegrino all'Urd, come in qualsiasi altro posto dove si riconosce la presenza del Signore, attraverso anche la Vergine Maria, i Santi, eccetera, noi troviamo un significato di pace. Io stesso nell'andare all'Urd ho sottolineato alla mia coscienza, al mio essere, questa grandezza del silenzio, della preghiera e di quello che poi sono appunto anche le intenzioni che ci spingono tutti ad andare in questi luoghi particolari di preghiera. Quindi ci riportano sempre a quello che poi è il nostro amore per il Signore. E ci andiamo anche, naturalmente, mi riferisco a chi ne ha veramente bisogno per cercare di chiedere alla Santissima Madonna la realizzazione di qualche miracolo. Certo. Che è importante. Io penso che siamo tutti bisognosi di questo contatto, di questo incontro, che ci fa essere veri cristiani quando appunto la preghiera diventa vera nell'atto di carità. Più carità c'è nella nostra vita, più siamo carità col nostro essere, più grande diventa ancora il miracolo che ha già fatto Dio e il Signore attraverso i suoi servi, coloro che appunto ha scelto sin dall'inizio, come la Vergine Maria, Santa Bernadette, che gli è stata vicina e che l'ha riconosciuta e che ci ricorda anche quello che poi per noi è anche importante, no? A lei che gli è stato chiesto chi era questa donna che parlava con lei e lei ha risposto all'Immacolata Concezione. Quindi una verità che per noi ancora oggi certo è un mistero, ma è una verità che ci illumina, che ci fa riconoscere in Maria qualcosa di grandioso, no? madre di Dio, quindi insomma non possiamo sminuire questa sua figura nella storia dell'uomo e nella storia di Dio soprattutto.